Al mio 3 ascolterò il bravissimo Steven Hart, il famoso mentalista che fa la mia imitazione e ovviamente farò in questo video di oggi una reaction in diretta ovviamente. Al mio 3 partirò, bando alle ciance, 1, 2, 3, via. Ciao a tutti ragazzi, sono stato al Cerbero, voglio raccontarvi la mia esperienza. Molti di voi penseranno che mi hanno preso per il culo, e la mia risposta è, e sti cazzi? Grande, grande Steven, è piaciuta molto, bravo, sei molto bravo caro Steven, imiti molto bene il mio personaggio qua su YouTube, sei molto in gamba devo dire, e quando finirà tutto questo putiferio ci potremo finalmente vedere dal vivo e potremo trascorrere diciamo così un momento per fare un gioco di mentalismo che tu applicherai su di me, e sono convinto che ci troveremo bene nel senso che comunque ormai ti conosco perché sei un personaggio abbastanza semplice e divertente al tempo stesso, quindi ti trovi una persona in gamba e piacevole da ascoltare. La tua imitazione caro Steven mi piace perché comunque sai imprimere una certa simpatia, una certa goriardia nel modo di averla fatta, ma soprattutto mettendoci un certo pathos, una certa emozione, un certo impegno aggiuntivo, e questo secondo me è più che positivo, va bene. Quindi complimenti al buon Steven Hart, il mentalista, questa è anche una forma di pubblicità che faccio a lui, che a lui rivolgo, è stato molto bravo, lo è sicuramente, anche perché è una persona che comunque frequenta il CERB, quindi ogni tanto si vede con loro, quindi questo mi fa molto piacere. Speriamo che, ripeto, ci sarà occasione di vedersi e di fare qualche video insieme, è tutto qua. Da Leandro, conoscitore di Anè Tutto, di Roma, complimenti Steven, sei un grande, una reaction che spero vi sia piaciuta e che vi abbia fatto divertire. Ciao, al prossimo video.